Musica Vogliamo potere in questo momento C'è un contributo che Sueli ha preparato Un contributo di omaggio alla città di Andria Alla città di Castel del Monte Che in Cina è considerata come il sole della Bibbia E io vi faccio sentire, giusto per accattivare un po' il vostro emoziasmo Il sole mio cantato in cinese Ok? Ok? Applausi Grazie 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 Riccardo Di Matteo Grazie. 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 Chiamo a premiare il sindaco. Grazie, gentilissimo. Grazie a tutti e grazie anche a tutti. Grazie, grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.